Noi sappiamo che oggi spesso per un bambino, per un giovane, i riferimenti culturali non sono più quelli della campagna, della vita all'aria aperta, degli animali. Qualche volta li vedono nella forma peggiore, quando ormai servono a ben altro. Avere questo contatto, avere questo rapporto, creare un luogo che restituisce questa cultura, è per una regione come la nostra un riscoprire le radici, quello che siamo, quello che siamo stati, è un pezzo anche di storia e di realtà. Un'esperienza molto positiva, quindi che toglie dalla rete, da internet, dal virtuale, riporta una dimensione reale di grande bellezza, di grande fascina.